un piccolo momento di tensione si è verificato nello studio di verissimo alla domanda di silvia toffanin a barbara d'urso riguardante il fatto che a breve la conduttrice sarà nonna ma la d'urso ha confermato di essere piuttosto riservata per quanto riguarda i suoi figli non parlo dei miei figli ha tagliato corto la d'urso che non ha quindi né confermato né smentito la voce secondo la quale presto sarà nonna la toffanin però ha intuito che l'indiscrezione fosse vera e che quindi uno dei suoi due figli stia effettivamente aspettando un bambino la conduttrice mediaset ha inoltre parlato delle recenti polemiche sul caso pamela prati la showgirl infatti ha dichiarato di aver denunciato penalmente barbara d'urso che però smentisce la subret si sarebbe rivolta ad un giudice civile chiedendo oltre 5 milioni di euro di risarcimento per i danni che avrebbe subito nessuna denuncia penale quindi almeno per il momento per il momento